Il prossimo intervento è di un altro membro sempre di ALI, Antonio Etta Veneziano, avvocato penalista, membro del Consiglio Direttivo, esperta delle questioni giuridiche dei vaccini anti-Covid, ha pubblicato diversi contributi divulgativi sul tema, la relazione possibili conseguenze penali dell'obbligo vaccinale. Buongiorno a tutti, scusate l'emozione, vado diritta sull'intervento. Il mio intervento ha ad oggetto un tema delicato, di cui il mondo giuridico si è occupato in maniera marginale, troppo marginale. Si tratta delle conseguenze penali dell'obbligo vaccinale. Sull'obbligo vaccinale si è detto di tutto. Abbiamo parlato, hanno parlato i tribunali amministrativi, si sono sollevate questioni di legittimità costituzionale, e si sono espressi i giudici del lavoro. È vero però anche che la cittadinanza ha percepito questo obbligo vaccinale come foriero di possibili crimini commessi nei confronti delle popolazioni. I giudici, mi ricollego al discorso del collega che mi ha preceduto, e hanno un pochino abdicato la loro funzione, e hanno trattato questi temi in maniera minima, se non diciamo completamente nulla. E quindi io ho concentrato il mio lavoro sulla configurazione di possibili reati previsti dal sistema penalistico italiano, quindi dal nostro codice penale. Però vi farò una breve premessa su quelli che sono i crimini contro l'umanità. In giurisprudenza la locuzione, crimine contro l'umanità, definisce quelle azioni criminali che riguardano violenze e abusi contro i popoli o parti di essi, e che siano avvertite per la loro forza come capaci di generare un senso di riprovazione perpetrate in danno dell'umanità. Questi concetti si sono nucleati a partire dagli orrori nazisti e sono stati messi in pratica con il processo di Norimberga, e che tutti noi conosciamo, e che è definito il processo di Norimberga in realtà una serie di processi che mettono in pratica sul piano dell'azione quello che si enucleava in quegli anni, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il concetto della centralità della persona umana. Concetto che viene recepito in maniera fondante dalla nostra Costituzione all'articolo 2, e che prosegue poi nei vari trattati internazionali. Il processo di Norimberga si compone di una parte di processi che vengono fatti contro i caponazzisti e un'altra parte di processi che vengono fatti davanti ai tribunali militari americani tra cui il celebre processo ai dottori che culmina con la sentenza del 19 agosto 1947 in cui vengono enucleati i dieci principi che oggi detti il codice di Norimberga. Sono principi che sono dettati a tutela della vita, dell'integrità fisica e della dignità della persona umana e soprattutto per impedire che nel futuro potessero essere condotti degli esperimenti medici sulle persone in assenza di un consenso libero e informato. Ebbene, la campagna vaccinale anti-covid-19 e le modalità con cui è stata messa in atto denota la possibilità che siano stati perpetrati dei veri e propri crimini contro l'umanità. E questo perché? Perché si è trattato di una campagna innanzitutto messa in atto con dei mezzi aggressivi nei confronti delle popolazioni che nel nostro Paese hanno avuto due pilastri normativi fondamentali uno è il decreto legge 4421 con l'obbligo vaccinale e il decreto legge 5221 che invece si è occupato dell'istituzione del Green Pass e del Super Green Pass con le varie modifiche che ne sono seguite e che ha effettivamente compresso quelli che sono i diritti il nucleo dei diritti fondamentali della persona umana. Queste modalità fanno sorgere il dubbio che il consenso libero e informato non sia stato tale perché non è stato sicuramente i cittadini sono stati innanzitutto, i dati sono stati fumosi e la campagna di comunicazione è stata volutamente distorta e anche poi per il crescente numero di segnalazioni di effetti avversi che è stato volutamente tenuto nascosto fa a presumere che ci siano delle gravi violazioni di quello che è il codice di Norimberga. Adesso, detto questo, ci sono dei reati che sono anche ipotizzabili nel nostro ordinamento. Io ho ennucleato due possibili crimini che vengono commessi nei confronti della popolazione italiana attraverso l'imposizione normativa dell'obbligo vaccinale. Due possibili gruppi di crimini. Il primo gruppo di crimini sono crimini contro l'incolumità pubblica. Sono previsti dal titolo sesto del codice penale ed in particolare mi riferirò a quei delitti che sono dettati per tutelare la salute pubblica. Si tratta di reati, in particolare parlerò dell'articolo 443 e 445 del codice penale che vengono definiti vaghi o vaganti perché hanno delle condotte in cui è insito il pericolo e quindi si caratterizzano per un'anticipazione del momento consumativo del reato cioè non c'è necessità di accertare che il bene giuridico sia stato effettivamente l'eso ma il momento consumativo del reato viene anticipato alla messa in pericolo del bene giuridico in questo caso l'incolumità pubblica e la salute pubblica. La prima fattispecie che viene in considerazione è quella del commercio o la somministrazione di medicinali guasti. Voglio dire che la possibilità di questi danni alla salute pubblica è stata messa in evidenza dai cittadini con numerose denunce di fide che sono state invase anche le procure di denunce, sono state indirizzate di fide alle autorità competenti e abbiamo avuto di contro il silenzio. Questi atti di rimostranza però sono fondamentali ai fini della valutazione di quello che è l'elemento psicologico del reato cioè l'adesione di chi mette in atto questi crimini al proposito criminoso nella forma ovviamente del dolo eventuale. Ne parlerò in seguito. Intanto parliamo del commercio e della somministrazione di medicinali guasti. Si tratta di una previsione legislativa di cui l'interesse specifico è quello di non patire danni all'integrità fisica a causa di medicinali che non sono perfetti ma che prevede anche la possibilità di non subire la somministrazione di farmaci che siano completamente privi di efficacia terapeutica. Quindi non c'è bisogno che avvenga necessariamente un danno alla salute ma è sufficiente che si subisca lì la somministrazione di un farmaco che non serve a nulla. Perché abbiamo preso in considerazione questa ipotesi di reato? Perché la giurisprudenza considera farmaci imperfetti i cosiddetti farmaci scaduti. E allora viene in considerazione l'aggiornamento della durata della validità dei flacconcini congelati del vaccino Cominerti di Pfizer che con un provvedimento pubblicato dall'AIFA il 4 ottobre 2021 sulla base di un precedente provvedimento di revisione della scheda tecnica da parte dell'EMA del 23 settembre estende deiure, cioè di diritto, la validità da 6 a 9 mesi della vaccinazione recependo una comunicazione di Pfizer che dice che la nuova durata deve essere portata a 9 mesi e che Pfizer dirà ma con la comunicazione del 27-9-2021 che viene fatta a tutti i medici e a tutti gli operatori sanitari che quindi si trovano questa previsione con efficacia retroattiva cioè che deve essere estesa anche ai farmaci che sono già depositati presso gli hub vaccinali. Allora dobbiamo chiederci se può considerarsi legittima questa proroga cioè la proroga della validità di un preparato farmaceutico che oltretutto si trovava e si trova ancora in fase sperimentale senza il supporto di studi che avvalorino la sicurezza, l'efficacia e quindi il perfetto stato di conservazione al fine di evitare danni alla salute collettiva. Prendiamo il riferimento di quello che dice l'AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità. L'AIFA ci dice che la data di scadenza dei medicinali non è la mera conseguenza di considerazioni arbitrarie o logiche di tipo commerciale ma deve scaturire da evidenze scientifiche. Si tratta infatti di il risultato di una valutazione basata su studi di stabilità condotti sui farmaci. Questi studi di stabilità devono essere svolti con dei metodi particolari e devono seguire delle linee guida internazionali. Anche l'importanza di rispettare questa data di scadenza viene sottolineata anche dall'Istituto Superiore della Sanità che fa presente che le sostanze contenute nel farmaco dopo la data di scadenza indicata preventivamente dalla Casa Farmaceutica sulla base degli studi di stabilità condotti prima può subire delle modificazioni chimiche con conseguente formazione di prodotti potenzialmente tossici per l'organismo. Si tratta del fenomeno cosiddetto di degradazione e i prodotti possono formare delle impurezze di degradazione che come ci dice l'IS se sono contenute in quantità superiori a certi limiti possono mettere a rischio anche la vita della persona. E allora andiamo a vedere se questa operazione commerciale condotta da Pfizer con la complicità dell'EMA e dell'AIFA possa avere i presupposti per rendere valida questo aggiornamento della data di scadenza. Bisogna dire che un'operazione del genere non era stata mai condotta quindi per rispondere a questa domanda partiamo da questo cioè è la prima volta che succede che un farmaco a cui la casa produttrice indica una data poi viene automaticamente prorogata la data di scadenza senza che esistano degli studi pubblicati. Per Pfizer, io ho verificato, non esistono non sono mai comunque stati resi pubblici degli studi che consentano di ritenere sicuro ed efficace il farmaco oltre la data di scadenza inizialmente indicata. Quindi in questo caso sicuramente ove non esistano e quindi ove non vengano recepite quelle indicazioni che abbiamo detto dell'AIFA, dell'IS e dei regolamenti internazionali il commercio e la somministrazione del medicinale può configurare un'ipotesi di reato. A questo punto, a livello sostanziale il reato sarebbe perfettamente integrato a livello formale invece ci troviamo tre distinti scenari perché abbiamo un primo lotto di vaccini che sono quelli prodotti fino a febbraio 2021 con scadenza massima ad agosto 2021 in questo caso i farmaci sono scaduti prima dell'approvazione di questa proroga a questo punto il reato sarebbe sicuramente integrato ove si accertasse che questi farmaci scaduti siano stati invece che distrutti come era la loro naturale destinazione conservati in un luogo adibito alla somministrazione o al commercio quindi nel lab vaccinale piuttosto che nell'ospedale senza l'indicazione specifica della loro destinazione cioè della destinazione di distruzione atta a scongiurare errori quindi il semplice fatto che siano stati tenuti dentro gli lab vaccinali per un potenziale uso successivo integra sicuramente la fattispecie di quell'articolo 443 il secondo caso è quello dei vaccini prossimi a scadenza e ci riferiamo a quei vaccini che scadevano proprio nel settembre 2021 e per questi vaccini andiamo a vedere che la versione della scheda tecnica del vaccino Cominerti di Pfizer che è aggiornata alla data del 25 settembre 2021 disponibile esattamente due giorni prima della comunicazione che proroga e riportava esplicitamente che le dosi di vaccino non devono essere usate dopo la data di scadenza indicata nel flacconcino quindi evidentemente su questi farmaci si è condotta un'operazione che ha prorogato cioè nonostante la data di scadenza indicata sul flacconcino è rimasta quella del settembre 2021 con un'operazione esclusivamente di diritto si è portata la scadenza al dicembre 2021 senza che ci siano a supporto questi studi scientifici di cui abbiamo parlato prima anche in questo caso sicuramente a mio parere il reato è perfettamente integrato ci troviamo poi l'ultimo caso che è quello dei vaccini che sono stati prodotti dopo il settembre 2021 e quindi con la data di scadenza che è già indicata in nove mesi a partire dalla fabbricazione per questi vaccini a livello formale il reato non sussisterebbe perché nascono con una scadenza già prevista a nove mesi è vero che però se si tiene in considerazione la finalità della norma che è quella di tutelare la salute pubblica e quindi di garantire che alla popolazione non vengano somministrati farmaci non potenzialmente pericolosi anche in questo caso la mancanza di studi scientifici dovrebbe portare alla configurazione del reato nonostante si tratti di farmaci formalmente perfetti il secondo reato verso la salute pubblica che ho individuato è quello dell'articolo 445 che punisce chiunque esercita il commercio di sostanze medicinali e le somministra in specie qualità e quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata e pattuita si tratta di un reato proprio anche questo contro la salute pubblica il reato proprio vuol dire che deve essere commesso solo da particolari soggetti dei soggetti che rivestono delle particolari qualifiche cioè in questo caso chi esercita in maniera professionale il commercio inteso come attività di intermediazione nella circolazione dei beni si deve essere una forma di intermediazione svolta con carattere di continuità e di professionalità perché l'autore del reato possa considerarsi responsabile sicuramente questa disposizione è applicabile alla campagna di vaccinazione anti-covid perché la condotta punita è quella della somministrazione intesa come qualsiasi forma di consegna o messa a disposizione anche a titolo gratuito di medicinali si tratta essenzialmente di una condotta di frode cioè si somministra alla popolazione un farmaco che non è la cui composizione dichiarata è diversa da quella che effettivamente è perché abbiamo ho individuato queste potesi di reato perché uno sconvolgente studio che è stato condotto nel nostro paese e per la verità anche in altri paesi sono stati condotti degli studi simili da tre scienziati indipendenti Cipelli Giovannini e Pisano che hanno analizzato il sangue dei soggetti vaccinati rilevandone delle alterazioni in particolare hanno rilevato delle impilazioni anomale dei globuli rossi che potenzialmente avrebbero potuto provocare trombi ma non solo in questo studio questi scienziati hanno evidenziato la presenza nel sangue di inclusioni mai riscontrate prima di varie dimensioni morfologie cioè particelle di grafene o composti grafenici o nanotecnologia analoghi studi sono stati condotti in Spagna in Israele ed anche in Germania dove un gruppo di scienziati tedeschi ha analizzato i campioni dei principali vaccini AstraZeneca Pfizer e Moderna e ha riscontrato la presenza di elementi metallici non indicati negli elenchi degli ingredienti e ha concluso che i vaccini covid sono contaminati o adulterati e contengono sostanze tossiche di cui non si è in grado di determinare lo scopo e non sono stati dichiarati dai produttori ebbene di fronte a uno scenario di questo genere si sarebbe sicuramente integrato il reato di quell'articolo 445 la cosa che sconvolge è che nessuna procura della Repubblica si sia attivata per quantomeno verificare quantomeno verificare che questi studi siano fondati oppure smentirne completamente la loro validità al fine di escludere la configurazione del reato ma se questi studi ricevessero conferma si tratterebbe di gravissime potenziali conseguenze sulla salute della popolazione e quindi i magistrati hanno quantomeno un obbligo di attivarsi attraverso i magistrati e chi li supporta quindi i tecnici operatori di polizia giudiziaria per verificare che questi reati non siano effettivamente stati commessi e il secondo gruppo di reati che invece andiamo ad analizzare sono i reati contro la persona e i reati specificamente che sono previsti al titolo 12 del codice penale e che tutelano la persona in quanto tale e voglio segnalare che nel mese di aprile 2022 come molti di voi saprete c'è un'associazione giuridica tedesca denominata CRISTA che è stata composta da giudici e pubblici ministeri che ha inviato al Parlamento tedesco una lettera aperta in occasione della votazione della vaccinazione obbligatoria che si è svolta il 7 aprile 2022 i giuristi tedeschi hanno posto dei fondamentali interrogativi al Parlamento chiedendogli di valutare la compatibilità dell'obbligo vaccinale e le sue possibili conseguenze giuridiche etiche e morali che questa scelta avrebbe potuto comportare sulla popolazione in particolare questo scritto focalizza l'attenzione sugli effetti collaterali come conseguenza dei vaccini anti-covid e segnala oltre agli allarmanti dati sugli effetti avversi l'inquietante certezza che la vaccinazione ha provocato dei morti quindi dicono i giuristi tedeschi al Parlamento e oltre a violare l'articolo 2 della Costituzione tedesca cioè il diritto alla vita e nonché gli articoli 2 e 3 e 8 del trattato cedo il 6 7 e 17 del patto civile delle Nazioni Unite dove lo Stato affermasse questo obbligo vaccinale starebbe deliberatamente uccidendo delle persone questa considerazione giuridica dovrebbe essere condotta anche nel nostro Paese perché lo Stato ha imposto anche qui la vaccinazione obbligatoria mettendo come minaccia e quindi come forma di costrizione ad accedere a questa somministrazione il ricatto della privazione dello stipendio e quindi della privazione della possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa allora man mano che la campagna vaccinale è andata avanti abbiamo visto e anche le istituzioni hanno preso atto della rilevante incidenza degli eventi avversi che sono aumentati e progrediti in concomitanza con la campagna vaccinale e che quindi avrebbero dovuto quantomeno condurre ad una riflessione sull'opportunità di mantenere questo obbligo cioè c'è stato un momento in cui lo Stato ha preso atto che c'era un tot un certo numero di morti causalmente riconnessi al vaccino quindi in questo momento proprio in questo momento va valutata la sussistenza del dolo eventuale di chi ha sottoscritto ha proposto ha imposto alla popolazione gli obblighi vaccinali in relazione ai delitti di omicidio e lesioni per tutte quelle morti o minorazioni della salute che sono conseguenti direttamente all'imposizione dell'obbligo vaccinale che si sarebbero potuti evitare ove questo obbligo non fosse stato sussistente e allora mi riferisco per esempio al nono rapporto di sorveglianza dei vaccini covid che è stato pubblicato in settembre 2021 a questa data l'obbligo vaccinale era ancora stato imposto solo alla categoria dei sanitari e però già l'AIFA aveva riportato la segnalazione di 608 decessi post vaccinazione di cui 16 sicuramente con correlazione accertata oltre a 101.110 segnalazioni di eventi avversi di cui 17 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate per eventi avversi e parliamo di eventi avversi anche di grevissima entità coale sindrome trombotica disturbi della coagulazione pericardite e miocardite sindrome di Guillain-Barré tutti eventi avversi che sono in grado di menomare la salute della persona in maniera permanente e irreversibile e quindi di provocare nella persona lesioni gravi o gravissime ebbene se a settembre 2021 il governo prende atto di questi dati il decisore avrebbe dovuto quantomeno rivalutare l'opportunità di mantenere in vita questo obbligo poiché è stato accertato che questo obbligo ha comportato la morte questi farmaci hanno comportato la morte di persone che quindi potenzialmente questo obbligo avrebbe potuto comportare la morte di alcune persone si trovava le istituzioni si trovavano con segnalazioni di circa 67 decessi al mese di cui circa due al mese sicuramente correlati e come sappiamo con un sistema di farmacovigilanza passiva che comunque si stima che riesca a segnalare gli effetti avversi per un numero molto molto inferiore a quelli effettivamente sussistenti di fronte a queste criticità il governo italiano cosa fa? invece di revocare l'obbligo vaccinale per evitare che altre persone potessero essere condotte a morti o a lesioni gravi gravissime estende l'obbligo vaccinale per altre categorie di lavoratori lo estende inizialmente per gli insegnanti per le forze dell'ordine poi con il decreto 172 e poi successivamente a tutte le altre categorie e allora diciamo in questo caso esiste o non esiste la partecipazione l'adesione al proposito criminoso nella forma del dolo eventuale di chi ha imposto questi obbligo vaccinali alla popolazione pur essendo consapevole che alcune persone avrebbero potuto essere condotte a morte o comunque subire lesioni gravi o gravissime ebbene la risposta non può che essere positiva perché che cos'è il dolo eventuale il dolo eventuale è una forma di dolo che è stata elaborata dalla giurisprudenza il dolo è la forma di partecipazione intenzionale al reato e il dolo eventuale è una forma intermedia e per cui la gente che si non vuole ottenere il risultato che poi è previsto dalla norma incriminatrice ma vuole ottenere un altro risultato però si rappresenta la possibilità che quell'evento in questo caso morte o lesioni possa effettivamente accadere e ne accetta il rischio inconsapevolezza non so se sono stata chiara scusami Antonietta solo due minuti grazie due minuti per la conclusione va bene va bene va bene allora mi riassumo un attimo riassumo un attimo quindi se un governo si rappresenta la possibilità che un farmaco possa portare a morte o a lesioni e accetta questo rischio cioè accetta di sacrificare una parte della popolazione per aggiungere un altro proposto che è quello di una massiccia adesione alla campagna vaccinale ebbene chi adotta questo proposito deve essere incriminato per sicuramente per i reati deve essere incriminato per i reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime nei confronti della popolazione perché se un soggetto che è assolutamente contrario a farsi somministrare questo farmaco ma costretto dal ricatto della privazione dello stipendio si determina a quella condotta solo perché c'è un'imposizione statale e non aderisce la responsabilità della sua morte va in questo caso imputata a chi invece lo ha costretto a quella condotta in questo caso come sappiamo la responsabilità penale è esclusivamente personale quindi responsabili di questi crimini contro la popolazione italiana devono essere individuati nel governo e quindi nei loro nei suoi componenti nei ministri nel ministro della statuta nel presidente del consiglio e velocemente salto qualche parte e concludo con quello che è un problema di rilevanza penale che è stato sollevato dalla popolazione obbligata con numerose denunce che purtroppo hanno visto molte archiviazioni nelle procure italiane cioè l'illegittima coartazione del consenso che è stata messa in atto nei confronti delle categorie obbligate per farle giungere alla somministrazione del farmaco parliamo del ricatto cosiddetto ricatto stipendiale tutti hanno parlato di richiesta estorsiva perché? perché l'estorsione così come la violenza privata hanno quale proprio elemento indefettibile la minaccia o alternativamente la violenza e quindi dobbiamo valutare se la minaccia messa in atto dal decisore dal legislatore per condurre i soggetti resistenti verso la somministrazione del farmaco possa integrare quei requisiti previsti dai reati degli articoli 610 e 629 reati di violenza privata ed estorsione e quindi possa costituire quella illegittima coartazione del consenso richiesta se questa tesi trovasse consenso e adesione da parte degli operatori giuridici sicuramente chi è disposto all'obbligo vaccinale dovrebbe rispondere dei reati di estorsione o violenza privata io perché? perché cos'è la minaccia? la minaccia si sostanzia nella prospettazione del pericolo che un male ingiusto nella persona o nel patrimonio possa essere cagionato alla vittima e nella nozione di minaccia rientra a qualsiasi comportamento che deve essere idoneo ad eliminare o a ridurre sensibilmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e agire secondo la propria volontà allora ci si chiede una persona a cui è stato detto ti tolgo lo stipendio ti tolgo la fondamentale e forse unica o comunque principale fonte di sussistenza ti impedisco di mantenere i tuoi figli di pagare il mutuo di casa questa minaccia può essere vissuta dalla vittima come un male ingiusto al fine di coartarne il suo consenso in maniera illegittima dice la giurisprudenza che non è neppure necessario che la libertà di autodeterminazione venga del tutto annullata è sufficiente che la richiesta con il pregiudizio che ne consegue sia accolta solo anche per mera convenienza cioè piuttosto che subire le conseguenze nefaste della privazione dello stipendio accedo pur non volendo a questo trattamento ci sarebbero i presupposti sia dell'uno che dell'altro reato un ragionamento mi ha portato a propendere per la consumazione nella forma tentato consumata del delitto di violenza privata perché essendo l'estorsione sicuramente un reato contro il patrimonio deve esistere una diminuzione patrimonica e in questo caso non è esistita e quindi sicuramente però c'è stata l'illegittima coartazione del consenso che ha schiacciato la volontà dell'agente e lo ha condotto al risultato voluto per la configurazione della norma incriminatrice e concludo concludo velocemente aspicando una presa di coscienza dei popoli prima perché ho parlato prima di crimini contro l'umanità che probabilmente sono stati perpetrati anche attraverso la violazione del codice di Norimberga e sicuramente è stata commessa nei confronti della popolazione una sperimentazione non corrispondente ai principi di Norimberga senza consenso libero e informato quindi concludo auspicando una presa di coscienza che prima sia dei popoli poi delle istituzioni e infine della magistratura che porti grazie 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 grazie